Ciao ragazzi, sono il vostro Yurik360, sono qui per farvi un unboxing abbastanza particolare di una collector di non facile reperibilità, che è la Vanguard SRS Collectors Edition di Titanfall 2. Di questa collector diciamo che ci sono un paio di versioni, quella col gioco e quella sostanzialmente che è solo merchandise, come purtroppo di recente sta accadendo sempre più spesso, questo è collector senza gioco, questo è il caso, però è veramente una collector degna di nota per i contenuti e siccome esiste l'edizione con gioco, diciamo che sostanzialmente il contenuto sarebbe comunque quello dell'edizione con gioco. Vi dicevo che non è di facile reperibilità perché a causa di dati doganali e di piccoli disguidi questa edizione non è mai arrivata nei negozi da noi, se non naturalmente via import, ma preordinandola sugli store americani i dazi, le dogane e tutto quello che riguarda le tasse per l'import in Europa avevano dei costi sconsiderati e esagerati. Già questa edizione costa 250€ così com'è, senza gioco, quindi potete immaginarvi che con i dazi la cifra si raddoppiava sostanzialmente. Questa edizione mi è stata gentilmente prestata dal nostro agente K, quindi lo ringrazio e se avete commenti da lasciare al video fateli direttamente a lui, io sono il mero esecutore di questo unboxing, vediamo il contenuto e quindi ecco, passiamo subito a quello che contiene questo enorme scatolone. Allora, partiamo con questo box, artwork molto interessante e molto simpatico, che contiene un pochettino tutte le piccole chicche di questa collector. Sono un po', se vogliamo, una serie di oggetti relativi ai piloti dei Titan e aprendola mi è venuto subito da pensare che sia un po' un kit da cosplayer, perché in sostanza ci sono le toppe del pilota da mettere, se volete, sulla vostra bella giacchina, eccola qua, molto carine. C'è la sciarpa o scaldacollo che dir si voglia, che potete mettere sotto al casco, che c'è poi all'interno della collector. C'è un taccuino con penna che ogni pilota del futuro ha con sé, a quanto pare, per segnarsi le kill. Eccolo qua. Si richiude in materiale rigido con la sua pennina, carino. E poi ci sono le piastrine, la piastrina del pilota, del protagonista del gioco, Jack Cooper, con tutti i suoi dati, molto carina. E questa, sempre di Jack Cooper, che però è in realtà una chiavetta usb, che se non sbaglio, forse contiene anche qualche contenuto di gioco, io ora francamente non me lo ricordo. Però, insomma, fa la sua bella figura. E quindi, ecco, tutto il kit completo per travestirvi da vero e proprio pilota. Ma che pilota sareste senza il casco della Vanguard, quindi il casco da pilota della serie Vanguard, che è quello poi protagonista del gioco. Lo scatolo ha queste bellissime maniglie, ringrazio perché è la prima volta che vedo qualche genio che crea una cosa del genere per togliere i contenuti. E questo è il casco da pilota. Eccolo qua. È assolutamente un bel pezzo da collezione. Vediamo se è bene a fuoco. Poi magari vi faccio un po' di... Eccolo qua. I dettagli sono assolutamente notevoli, con un sacco di inserti, di ganzi. Come potete vedere ci sono parti non solo plastiche, ci sono parti in cuoio e in tessuto. Ci sono tutte queste piastre scorrevoli a cui possiamo agganciare gli accessori, che ora vi mostro. Qui sui lati ci sono i bottoni per attivare i suoni e le luci. Eccolo qua. Anche questi aggeggi hanno le loro luci. Ovviamente è un casco grandezza, naturale, indossabile. È anche molto comodo, devo dire. Gli accessori sono fondamentalmente due. E sono una lucina laser, questo tipo qui, che voi inserite qui dentro, vedete? E qui una torcia di segnalazione. Potete inserirla dall'altro lato, se posso messa al contrario. Dall'altro lato, oppure potete un attimino decidere voi dove metterla. Il tutto è molto carino e molto fedele anche rispetto al gioco. Poi all'interno della scatola c'è lo stativo, lo stativo immancabile, che è semplicemente questo bacchettone qui, su cui potete appoggiare il casco. Io ora ci provo, se riesco a trovare il punto esatto dove va incastrato. Non è facilissimo. Vabbè, facciamo finta di appoggiarcelo semplicemente così per farvi capire il concetto. Ma questo è quanto. Il casco è molto bello, ripeto. È costoso, è costoso. Lo pagate praticamente come un casco da moto. Però è molto bello in tutti i suoi dettagli. E sicuramente un collezionista appassionato di Titanfall vorrà farlo suo. Non è facilissimo da trovare, ma vi auguro di poterlo reperire. Aggiungo infine una chicca, sempre del nostro agente K, che è questo bellissimo controller Wired della PDP. Guardate quanto è bello. Serie Vanguard, ovviamente dedicato a Titanfall 2, controller Xbox One. Con queste parti in gomma, molto belle. La grafica ovviamente tutta in rilievo, con il logo della... Marauder dovrebbe essere queste cose qua. No, SRS, vabbè, ok. Dei loghi, dei simboli sulla croce direzionale. Wired, quindi col filo perché è sicuramente la soluzione più affidabile in game. E' decisamente bello. Decisamente bello. Di questo non conosco esattamente il costo. Scrivetemelo voi nei commenti. Essendo la PDP e personalizzato, vedete anche delle rotelle... Delle rotelle sul retro per poterlo personalizzare. Questa parte un po' in gomma liscia, mentre questa è in gomma rubida. Niente male, veramente molto carino. E con questo diciamo che chiudo questo unboxing. Spero vi sia piaciuto, spero possiate trovarlo se volete spendere una bella sommetta. Sicuramente leggetevi la recensione del gioco perché è un grandissimo gioco e vi consiglio assolutamente di giocarlo. Continuate a seguirci e a seguire il nostro canale. Ciao!